Buongiorno, sono il professor Passamonti, ordinario di ematologia e presidente del CDS Infermeristica dell'Insubra. Il CDS Infermeristica dura tre anni, è una laurea professionalizzante e significa che il giorno dopo la laurea lo studente laureato può iscriversi all'ordine professionalizzante e iniziare a lavorare. Il corso dura tre anni e abbiamo tre sedi universitarie a Varese e a Como e a Bustorsizio. Questo offre un'eterogeneità e di approccio sul territorio importante per lo studente. Cosa offriamo allo studente? Offriamo la possibilità di diventare un ottimo infermiere partendo dai fondamenti di base fino alle informazioni più specializzate. Offriamo informazioni su come si gestisce l'infermiere in ospedale e come si gestisce la continuità assistenzale sul territorio. Prepariamo i medici di famiglia, prepariamo un libro a professionisti capaci di lavorare. Cosa chiediamo? Impegno. Impegno, studio nell'attività quotidiana e grande interesse nei tirocini che formeranno il nuovo infermiere. Quali sono i risultati e perché scegliere Insubria? Io penso che avere più del 90% di laureati che vengono assunti in un anno sia un punto di forza. Io penso che avere più del 90% di studenti che il giorno della laurea dichiarano di essere soddisfatti del corso sia un altro grande punto di forza. Inoltre offriamo la possibilità anche di giudicare l'attività didattica dello studente. Quindi lo studente in Insubria è uno studente che viene ascoltato, il cui parere è centrale per il nostro sviluppo. Scegli oggi il tuo domani. Ciao, sono Jessica, studentessa del secondo anno di infermieristica. Ho scelto Insubria perché è un'università dinamica, di qualità, eclettica, sempre pronta ad evolversi e a migliorare. In particolare il mio corso di laurea offre un'ottima preparazione. Non lo nego, è molto impegnativa e richiede molti sacrifici, ma siamo costantemente seguiti, supportati da un corpo docenti altamente qualificato ed un tutorato di alta specializzazione sempre molto disponibile che in maniera sinergica lavorano per offrirci la miglior formazione possibile. Scegli oggi il tuo domani.